Magnifico Rettore, Devenendissimo Presidente dell'Action Institute, carissimi amici, nel ringraziare Fr. Robert Sirica, Presidente dell'Istituto, per il gentile invito che mi aveva fatto, e anche a Monsignor Mariano Mazzi, Rettore magnifico di questa Università, che ci accoglie con tanta cordialità. Mi sembrerebbe logico cominciare questo mio intervento cercando di dare una risposta preliminare alla seguente questione. Cosa si intende per dimensione religiosa della libertà umana, o più brevemente, per libertà religiosa? L'Illustissimo Presidente accennava a questo chiarimento fatto dal Papa Benedetto XVI, sulla distinzione tra la vera laicità e il secolarismo, o se si vuole il laicismo, perché lì, in questa controposizione, in questo necessario bilanciamento delle due tendenze in cui si gioca l'esistenza o meno della libertà religiosa. Nella enciclica Rerum Novarum, Leone XIII, parlava del diritto di adempiere liberamente i doveri religiosi e del conseguente dovere dello Stato di assicurare l'esercizio di tale libertà. Giovanni Paolo II, nella Centesimo Sannus, che si vuole commemorare in queste conferenze, commentava che non ne sbaglierebbe chi in questa limpida affermazione vedesse il germe del principio del diritto di libertà religiosa. A nessuno si nasconde che questo principio è stato frequentemente ostacolato nella storia e che nuovamente l'attualità di questa tematica è grande, sia per gli attentati terroristici frutto di fondamentalismi religiosi che hanno radici in sistemi politici totalitari, sia per certe riforme legislative in atto in Europa ispirati da un fondamentalismo laicista o relativista di taglio ugualmente totalitario in quanto sistema ideologico contrario alla dimensione sociale della religione o della libertà religiosa. Ha scritto, infatti, Benedetto XVI nel suo messaggio per la giornata mondiale della pace di quest'anno Leggo La Chiesa si fa paladina dei diritti fondamentali di ogni persona In particolare, essa rivendica il rispetto della vita e della libertà religiosa di ciascuno E continuava Per quanto riguarda la libera espressione della propria fede un altro preoccupante sintomo di mancanza di pace nel mondo è rappresentato dalle difficoltà che tanto i cristiani quanto i seguaci di altre religioni incontrano spesso nel professare pubblicamente e liberamente le proprie convinzioni religiose Parlando in particolare dei cristiani continuava il Papa debbo rilevare con dolore che essi non soltanto sono a volte impediti in alcuni estati vengono addirittura perseguitati ed anche di recente si sono dovuti registrare tragici episodi di efferrata violenza Vi sono regimi continua il Papa che impongono a tutti un'unica religione mentre regimi indifferenti alimentano non una persecuzione violenta ma un sistematico dileggio culturale nei confronti delle credenze religiose in ogni caso non viene rispettato un diritto umano fondamentale con gravi repercussioni sulla convivenza pacifica Chiudo la citazione del Papa Ma che cosa significa esattamente libertà religiosa nel contesto culturale di una società tendenzialmente relativistica come la nostra? Ovviamente il concetto di libertà religiosa non significa che tutte le religioni sono uguali che tutte sono vere o che ciascuno è liberissimo di scegliere quella che più gli piaccia In una società di cultura tendenzialmente soggettivistica e relativistica come la nostra non mancano coloro che pensano che anche nella sfera religiosa ciascuno può comportarsi come in una specie di supermarket dove si può scegliere il proprio Dio come si scegliere il tipo di dentifricio o detersivo di sua preferenza Però non è così La verità è specialmente la verità con la maiuscola La verità su Dio è una realtà oggettiva non soggettiva assoluta non relativa che non dipende dalla nostra ragione o dalla nostra volontà pur se deve essere ricercata con una volontà essente di coazioni ed una ragione essenta da pregiudizi Perciò se tutti gli uomini sono moralmente obbligati a cercare sempre la verità questo obbligo è particolarmente forte in tutto ciò che concerne la verità su Dio e su quanto Dio ha rivelato Giovanni Paolo II promotore del dialogo interreligioso e capace di riunire ad Assise o a Roma i rappresentanti delle grandi religioni per pregare separatamente per la pace separatamente ripetè con forza non solo in Piazza San Pietro ma anche nel Palazzo delle Nazioni Unite e in tutti gli aeropaghi del mondo che non c'è che un solo Dio vero creatore del cielo e della terra che si è rivelato plenamente in Gesù Cristo unico salvatore diritto alla libertà religiosa significa che in materia religiosa e fermo restando il testè ricordato dovere di ricercare la verità su Dio nessuna persona può essere forzata ad attuare contro la sua coscienza ne può essere impedita di professare la sua religione in privato o in pubblico ma a questo concetto lineare e obiettivo di libertà religiosa si è giunti nelle nazioni democratiche attraverso un lungo cammino di confronto e di dialogo mi escuserete se salto qui alcune cose per non entrare in disquisizioni storiche che allungherebbero molto e non mi voglio stancare passiamo alla seconda metà del secolo XX la dottrina giuridica e il magistero della chiesa cattolica soprattutto in due notissime documenti di grande trascendenza storica uno civile e l'altro religioso hanno operato una convergenza dottrinale condivisa dalla generalità delle scuole filosofiche che fondamenta essenzialmente la libertà religiosa in un medesimo concetto basilare la dignità della persona umana fondamento di tutti i diritti universali della persona questi due documenti sono la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'assemblea generale delle organizzazioni delle nazioni unite il 10 dicembre 1948 e la dichiarazione dignità disumane del concilio Vaticano II del 7 settembre 1965 preceduta due anni prima dall'enciclica pace minterris del beato Giovanni XXIII nel messaggio indirizzato al segretario generale delle nazioni unite in occasione del trentesimo anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo Giovanni Paolo II al tempo stesso che affermava come farà di seguito in ripetute occasioni che il diritto alla libertà religiosa è la base cito di tutte le altre libertà ed è inseparabilmente legato ad essa si domandava cito nel mondo come lo troviamo oggi quali criteri possiamo usare per far sì che i diritti di tutte le persone vengano protetti quale base possiamo offrire come terreno sul quale possano prosperare i diritti individuali e sociali e lo stesso Papa così rispondeva cito indiscutibilmente questa base è la dignità della persona umana principio fondamentale questo che appare formulato anche in tutta chiarezza nelle due anzidette dichiarazioni dice infatti il preambolo della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo cito il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà della giustizia e della pace nel mondo è importante ricordare questo perché quando si tende a una dittatura del relativismo si negano l'esistenza di valori universali anche questo questa dichiarazione delle Nazioni Unite e poi l'articolo 18 di questa dichiarazione dice così ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare isolatamente o in comune e sia in pubblico che in privato la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento nelle pratiche nel culto e nell'osservanza dei riti dal canto suo afferma la dichiarazione dignitatis umane mentre come abbiamo ricordato fa presente l'obbligo morale di ogni persona di cercare e abbracciare la verità in materia religiosa cito il concilio dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale si conosce sia per mezzo della parola di Dio rivelata sia tramite la stessa ragione vale a dire che tanto l'autorità civile come l'autorità ecclesiastica ambidue ai massimi livelli coincidono nell'affermare che la libertà religiosa in quanto basata nella stessa dignità della persona umana intelligente e libera per natura costituisce un diritto universale e inviolabile che deve essere riconosciuto e tutelato in tutti gli ordinamenti giuridici positivi qualunque siano le varie culture nazionali etniche o religiose in cui tali ordinamenti siano formulati purtroppo però è ben noto che così non avviene in determinati luoghi è un fatto la insufficienza tutela della libertà religiosa che è stato denunciato non solo in un passato recente previo alla caduta dei regimi comunisti nell'est europeo ma anche nell'attualità dinanzi al perdurare di sistemi totalitari tanto nel piano religioso fondamentalismo islamico soprattutto ma anche hindù o buddista come di fronte alle forti pressioni ideologiche del totalitarismo agnostico o laicista che pervade una parte della cultura europea attuale purtroppo ha detto Papa Ratzinger parlando al corpo diplomatico presso la santa sede cito in alcuni stati essa la libertà religiosa lunghi dall'essere garantita e anzi gravemente violata bene tenendo conto di questa realtà vorrei abbottare una modesta risposta a queste tre domande che vi pongo e che mi pongo primo si può ancora sostenere come nel 1948 e nel 1965 il carattere universale del concetto di persona umana e pertanto dei diritti come quello della libertà religiosa che derivano da medesima dignità della persona prima pregunta seconda che esigenze univoche di giustizia dovrebbero esserci oggi negli ordinamenti statali perché sia reale la tutela di questo diritto senza il quale non è possibile l'auspicato dialogo tra le culture e tra le civiltà di cui tanto si parla terza domanda come armonizzare l'adempimento legale di tale esigenze con la prevenzione di possibili abussi o anche con il debito rispetto alle tradizioni culturali di ogni nazione queste sono le tre domande che mi sembrano più importanti andiamo con la prima una conosciuta giurista statunitense voi la conoscete bene presidente della pontificia accademia delle scienze sociali la professoressa Mary Ann Glendon della università di Harvard investigando sulla storia della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ha illustrato bene la chiarezza di pensiero che guidò i lavori di Charles Malik relatore di questa magna carta presso l'assemblea generale delle Nazioni Unite Malik un arabo libanese di confessione greco ortodossa seguì dal principio alla fine tutte le fasi di preparazione del documento conscio dei molti problemi di ordine politico e culturale che implicava l'elaborazione di una carta di diritti umani che potesse essere universalmente valida cioè diritti accettati come inviolabili e inalienabili da parte di tutti Charles Malik sollevò fin dal principio ai suoi colleghi del comitato di redazione una questione previa e pregiudiziale quando si tratta di diritti umani gli disse si pone la domanda fondamentale che cosa è l'uomo da qui dall'attenta considerazione storica filosofica sociologica ed etica della natura della persona umana e della dignità che le è propria comunemente riconosciuta dalle diverse culture umane degne di tale nome scaturirono e furono tecnicamente formulati i diritti fondamentali di questa dichiarazione universale una delle più alte espressioni della coscienza e della cultura giuridica dell'umanità anzi presupposto indispensabile perché ci possa essere senza equivoci né pericolosi cedimenti culturali un vero dialogo tra le civiltà un dialogo cioè scevro di chiusure mentali e pregiudizi in merito alla storia della preparazione di questo trascendentale documento vorrei far notare che circa la domanda sulla reale esistenza di diritti umani fondamentali che potessero essere accetti da tutte le nazioni e civiltà furono interessati i pensatori delle più diverse tradizioni culturali da Jacques Maritain o Tegliar de Sardin al Mahatma Gandhi a filosofi confuciani buddisti e musulmani non si tratta pertanto di un documento elaborato votato da esponenti di una cultura e civiltà occidentale come alcuni dicono in questi diritti inalienabili si riflettono le esigenze obiettive e i valori imprescindibili di una legge morale universale che non ammette frontiere geografiche o condizionamenti riduttivi di ordine culturali politico o ideologico questi diritti ci ricordano anche disse Giovanni Paolo II parlando nel 95 all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che non viviamo in un mondo irrazionale o privo di senso ma che al contrario vi è una logica morale che illumina l'esistenza umana e rende possibile il dialogo la legge morale universale scritta nel cuore dell'uomo è quella sorta di grammatica che serve al mondo per affrontare questa discussione circa il suo stesso futuro chiudo l'accettazione di Giovanni Paolo II ma fu ed è molto significativo che il Papa abbia voluto aggiungere immediatamente dinanzi alle massime autorità civili del mondo ivi riunite nelle Nazioni Unite cito sotto tale profilo emotivo di seria preoccupazione il fatto che oggi alcuni neghino l'universalità dei diritti umani così come negano che vi sia una natura umana condivisa da tutti chiudo la citazione di Giovanni Paolo II nel dire questo non sfuggiva Giovanni Paolo II anzi lo riconobbe che culture differenti ed esperienze storiche particolari danno origine a forme istituzionali e giuridiche diverse ma aggiunse cito una cosa è affermare un legittimo pluralismo di forme di libertà ed altra cosa è negare qualsiasi universalità o intelligibilità alla natura dell'uomo o all'esperienza umana chiudo citazione con queste parole il Papa ha certamente voluto mettere in evidenza il pericolo che la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non legge internazionale ma sì ideale comune per la cui realizzazione tutti i popoli e nazioni devono sforzarsi dice la dichiarazione stessa venga progressivamente svuotata di autorità morale la dichiarazione e di forza vincolante a causa della crescente diffusione del pensiero filosofico e politico dell'individualismo libertario e di matrice nichilista o agnostica questa aberrazione ideologica che porta in taluni settori a negare il carattere univoco e universale della natura e dignità della persona umana e dei suoi conseguenti diritti innati e inviolabili ci obbliga a considerare che ciò che qui viene messo in gioco non è solo il magistero della Chiesa cattolica ma anche di altre religioni al servizio della dignità umana e sopranaturale dell'uomo ciò che potrebbe interessare ai soli credenti bensì è in causa e ciò riguarda tutti la stessa legittimità morale del diritto e la retta tutela della libertà religiosa condizioni necessarie perché messo da parte ogni fondamentalismo si possa veramente parlare di dialogo di civiltà non c'è alcun dubbio che il fenomeno più positivo della moderna scienza giuridica e delle costituzioni democratiche è stato lo sviluppo dottrinale e normativo sui diritti fondamentali dell'uomo ciò che ha contribuito a mettere al centro della realtà giuridica il suo vero protagonista la persona umana con la sua ilanielabile dignità e libertà e così si è superato questa aberrazione del diritto dei sistemi totalitari di destra o di sinistra dello stesso che mettevano al centro del sistema giuridico una determinata filosofia invece della realtà umana della persona umana alla quale la società deve servire si è però avuto una progressiva presa di coscienza che tale ordinamento si deve strutturare e continuamente perfezionare tenendo presente che è proprio la persona umana il fondamento e il fine della vita sociale ciò nonostante parallelamente allo sviluppo della centralità della persona nel diritto dell'antropologia giuridica possiamo dire si è prodotto un altro fenomeno che preoccupa seriamente non solo al magistero ecclesiastico ma anche i sociologi e i filosofi del diritto nonché il semplice cittadino mi riferisco al progressivo impoverimento etico delle leggi civili disprezzo della indelusibilità del vincolo matrimoniale e perfino dello stesso concetto antropologico di matrimonio liberalizzazione dell'aborto dell'eutanasia delle manipolazioni generiche di ogni genere e al riguardo della libertà religiosa riduzione relativista e agnostica di questo concetto e delle modalità di riconoscimento di questo diritto oggi ha detto Giovanni Paolo II ai partecipanti in un simposio organizzato dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi cito in no poche società non è raro assistere a una specie di regresso di civiltà frutto di una concezione soggettivistica della libertà svincolata dalla legge morale chiusa la citazione di Giovanni Paolo II ma Benedetto XVI che aveva già adoperato come decano del collegio cardenalizio un'espressione diventata celebre dittatura del relativismo nella omilia della messa che precedette l'entrata in conclave ha detto una democrazia senza valori si trasforma in tirania del relativismo in una perdita della propria identità e a lungo andare può degenerare in totalitarismo aperto e insidioso sono parole forti soprattutto dette da un Papa sono ben conscio che valutando le precedenti affermazioni in chiave moralista qualcuno potrebbe oggettare ma non ci si accorge che parlando così si confondono pericolosamente la morale e il diritto non ci si accorge che il precetto morale si appela alla coscienza mentre la norma giuridica riguarda invece i rapporti esterni la condotta sociale dell'uomo non ci si accorge che in tutto questo ragionamento oltre a detta commistione concettuale traspare una certa nostalgia radicale dello Stato confessionale cristiano contrario alla moderna concezione laica dello Stato non ci lasciamo impressionare né intimidire i cari amici dal subdolo sofisma nascosto sotto queste domande a prescindere del fatto che prima del cristianessimo la preeminenza della legge naturale della recta ratio sulla legislazione positiva era patrimonio giuridico della cultura greco-romana basta leggere l'etica a Nicomaco di Aristotele o della Repubblica di Cicerone è certamente l'attuale concezione personalistica della sociologia e della scienza del diritto quella che richiede che tutti gli ordinamenti giuridici rispettino i postulati del diritto naturale infatti è vero che la morale e il diritto sono due scienze diverse che riguardano l'uomo da prospettive con finalità differenti la morale si occupa primariamente dell'ordine dell'uomo come persona riguarda cioè l'insieme di esigenze emananti dalla struttura ontologica dell'uomo in quanto essere creato e dotato di una particolare natura dignità e finalità il diritto invece si occupa primariamente dell'ordine sociale riguarda cioè stiamo parlando del diritto come ordinamento l'insieme di strutture che ordino la comunità civile la società però se come abbiamo appena visto il fatto più rilevante positivo del progresso della scienza del diritto è stato proprio quello di mettere al centro della realtà giuridica il suo vero protagonista la persona umana fondamento e fine della società è ovvio che il diritto di una sana democrazia nell'ordinare le proprie strutture sociali in una società di pluralismo etnico e religioso deve tenere conto di quale sia la struttura ontologica della persona umana la sua natura di essere non soltanto animale istintivo ma intelligente libero e con una dimensione trascendente religiosa dello spirito che le leggi civili non possono ignorare né tanto meno mortificare qualora si negasse questa verità universale sulla natura e la dignità della persona umana una verità che non può essere convenzionale ma né dipendere dall'opinione della maggioranza non solo si indebolirebbe pericolosamente il concetto di libertà religiosa e degli altri diritti fondamentali dell'uomo ma si si troverebbe dinanzi ad un diritto antinaturale essenzialmente immorale strumento inadeguato per un dialogo costruttivo e sincero tra civiltà e passiamo alla seconda domanda che esigenze univoche di giustizia dovrebbero eserci oggi negli ordinamenti statali per la tutela reale di questo diritto perché se è vero che la libertà religiosa affermata come diritto fondamentale viene annunziata da quasi tutte le costituzioni nazionali è anche vero che il suo significato normativo e la sua positivizzazione legislativa nei diversi ordinamenti giuridici è molto lontano dall'essere completa ed omogenea il caso estremo mi sembra di individuarlo nelle nazioni in cui l'adozione civile della legge coranica la sharia porta all'abuso totalitario di negare la libertà di coscienza ai propri cittadini combinando gravissime discriminazioni e pene anche di morte a che si converta ad altre religioni anzi in alcune di queste nazioni come l'Arabia Saudita si arriva a negare la libertà di professare la propria religione non islamica ai cittadini e straniere residenti nel paese tuttavia la limitazione della libertà religiosa non è meno evidente quantunque in forma più sottile in alcuni altri stati che si dicono democratici ma che dinanzi alla questione religiosa adottano una ideologia ufficiale di secolarismo ateo o per dirla meglio antiteo antireligioso anche qualificato del totalitarismo legista mi riferisco in primo luogo a coloro che considerano con Marx che la religione è l'opio del popolo e pertanto deve essere repressa più che con la violenza metodo che genera martiri ed è controproducente con misure restrittive con cui si aspetta di arrivare alla pacifica estinzione delle istituzioni religiose ho avuto occasione di comprovare personalmente in quel grande e nobile paese che è la repubblica popolare cinese e che il nostro collega conosce tanto bene che è tanto a cuore del papa fino a che punto la enunziazione dell'articolo 36 della costituzione del 1982 di una libertà religiosa condizionata porta ancora ci si auspica che questa penosa situazione possa cambiare anche per il bene comune ed il progresso della nazione cinese a tre concrete limitazioni l'impossibilità di esercizio di un'autorità religiosa sopranazionale non cinese la proibizione dell'evangelizzazione e della catechesi fuori del luogo di culto l'impossibilità dell'insegnamento religioso nei centri educativi di qualsiasi livello o in mezzi di comunicazione sociale tuttavia dobbiamo riconoscere che anche nei sistemi giuridici di paesi democratici sorgono problemi di insufficiente tutela della libertà religiosa perfino cito Giovanni Paolo II nel 2004 in alcuni paesi europei siamo testimoni in questi ultimi tempi di un atteggiamento che poteva mettere in pericolo il rispetto della libertà di religione ciò avviene soprattutto quando le espressioni neutralità dello Stato o laicità dello Stato sono interpretate o applicate in maniera incorretta nella pratica quando per esempio la libertà religiosa viene concepita come una concessione dello Stato al cittadino non come un'esigenza della dignità stessa della persona umana che precede ogni diritto positivo o ancora quando il concetto di laicità si intende o si converte di fatto in laicismo militante si comincia con un atteggiamento di disprezzo agnostico delle credenze religiose considerate frutto o causa di scarso sviluppo culturale di nazioni o di regioni sottosviluppate e si perviene addirittura progressivamente all'imposizione dittatoriale di norme scolastiche che d'una parte mortificano il diritto dei genitori circa l'educazione religiosa che vogliono che i loro figli ricevano che è un diritto naturale e d'altra parte obbligano tutti gli alunni delle stesse scuole a ricevere la cosiddetta educazione civica a nomi vari secondo del luogo contrarie in molti punti di contenuto ideologico impongono una ideologia atea alla morale cristiana e allo stesso concetto di morale naturale e di religione in queste fatti specie la neutralità o la laicità pretesa dello Stato non sono equivalenti a Stato laico o a confessionale ciò che sarebbe corretto bensì a Stato anticonfessionale ideologicamente antireligioso che senza dirlo esplicitamente impone l'ateismo come religione di Stato si tratta come prima accennavo ad un atteggiamento di totalitarismo o fondamentalismo laicista salto alcune cose appena due mesi dopo la sua elezione Giovanni Paolo II scriveva nel già citato messaggio al segretario generale delle Nazioni Unite la giustizia la sapienza e il realismo richiedono a tutti che le rovinose posizioni del secolarismo siano superate particolarmente la erronea riduzione del fatto religioso alla sfera puramente privata nei regimini politici veramente democratici sono variegati gli ambiti di esercizio e pertanto di necessaria tutela giuridica della libertà religiosa in numero rapidamente per non fare una dettagliata esposizione di tutti nel testo scritto ci sono l'esercizio del culto sia privato che pubblico la propaganda religiosa l'educazione religiosa dei figli le associazioni i confini di religione le attività scolastiche eccetera come anche sono riconosciuti i problemi giuridici che pone la garanzia della libertà di coscienza di religione tanto nell'ambito familiare e di lavoro legislazioni sulle conversioni per esempio o sul matrimonio la obiezione di coscienza eccetera come anche nelle istituzioni pubbliche sia per evitare ingiuste discriminazioni nella vita personale matrimoniale o professionale per motivi religiosi che per assicurare anche i necessari servizi sociali di ogni espiriale come sarebbe l'assistenza religiosa nell'esercito negli ospedali eccetera qui c'è una numerazione più dettagliata che quella che è stata approvata anche nella famosa dichiarazione fatta in Helsinki a proposito non solo della libertà religiosa ma anche di altre libertà lo Stato ha tutti l'interesse a vigilare perché la libertà religiosa diritto naturale individuale e sociale sia effettivamente garantito a tutti quando i credenti si sentono rispettati nella propria fede e vedono le proprie comunità giuridicamente riconosciute collabora con tanta più convinzione al progetto comune della società civile di cui sono membri giunti a questo punto però appare logico a domandare che limite è giusto porre oggi all'esercizio del diritto alla libertà religiosa e ci avviciniamo al terzo punto e ultimo della conferenza tenendo conto anche dell'attuale proliferazione di sette culti satanici ed altre organizzazioni simili che si presentano come religioni ma è dubbio che lo siano e per contro sarebbe lesivo del principio di uguaglianza e di non discriminazione qualunque trattamento di favore concesso dallo Stato ad una determinata confessione religiosa maggioritariamente radicata nella realtà sociale storica e culturale della nazione ed infine quale peso dovrebbe avere il rispetto della libertà religiosa nel dialogo tra civiltà sono domande che introducono nel terzo punto e ultimo di queste considerazioni l'articolo 18 del patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre del 66 applicato successivamente nelle legislazioni di molti paesi prevede che l'esercizio del diritto alla libertà religiosa possa essere limitato in base alla necessaria tutela della sicurezza dell'ordine e della sanità pubblica oltre che della morale pubblica e degli altrui diritti e libertà fondamentali e questa è la ragione a noi ci sembra per cui negli ultimi anni e in non poche nazione si è negato o ritirato il riconoscimento giuridico a determinate sette e a nuovi culti pseudo religiosi che compivano o promuovevano atti contrari alla legge naturale condannati come delitti in qualsiasi società civilizzata non vi è dubbio sempre che i termini sicurezza ordine e sanità pubblica siano rettamente intesi sulla legittimità morale e giuridica di queste limitazioni del diritto della libertà religiosa ciò nonostante la giustizia esige al contempo la necessaria attenzione e vigilanza per evitare gli abusi in senso contrario a cui potrebbero dar luogo condizionamenti di ordine ideologico totalitario mi riferisco tanto al totalitarismo religioso stato confessionale fondamentalista islamico in due o altro come al totalitarismo politico marxista racista o laicista fu già significativo nel 1948 che la dichiarazione universale di diritto dell'uomo risultasse approvata dall'assemblea generale dell'onu per 48 voti favorevoli con l'attenzione di otto nazioni quando questo si dice e alcuni si sorprendono poi è logico che fosse così che la tendenza totalitarista queste nazioni era manifestare un deseo del bloco sovietico un totalitarismo ma cittadine del mar negli Stati Uniti in Sudafrica a morire del desiderio di abertà insiste la vicenda e la rara saurita città l'importanza che ha per la società la vicenda oggi sembra prudente tener conto i nostri con la serata posola che la tendenza al totalitarismo di olas crudere l'amane di stare anche negli democrati stabilire il paolo secondo parlando ai cittadini del mar negli Stati Uniti diceva la sfida che avete dinanzi a voi consiste nel sensibilizzare le coscienze delle persone per circa l'importanza che ha per la società la libertà religiosa e la difesa di questa libertà contro coloro che vorrebbero includere la religione scludere la religione della sfera pubblica e stabilire il secolarismo come fede ufficiale dell'America sono parole della catedrale di Baltimore nel 98 non sarebbe invece abuso da parte dello Stato attribuire una speciale posizione giuridica e questo è il secondo ultimo punto alla religione più profondamente radicata nel paese cristiana musulmana o altro sempre che simultaneamente sia riconosciuto e tutelato il diritto alla libertà di coscienza e di religione di tutti i cittadini assicurando questo principio di uguaglianza non si considera arbitrario né contrario al carattere a confessionale o laico dello Stato che questo per ragioni di giustizia sociale non di privilegia nessuna tuteli con speciale considerazione nelle sue leggi e regolamenti i valori religiosi che sono professati dalla maggioranza dei cittadini e che appartengono al patrimonio storico artistico e culturale della nazione per quanto riguarda concretamente la Chiesa Cattolica questa manifestazione di doverosa stima pur non essendo religione di Stato consta nelle costituzioni di numerose nazioni europee e americane talvolta si manifesta anche nei concordati o convenzioni stipolati con la Santa Sede qui è numero una serie di queste con i quali si garantisce alla Chiesa Cattolica e alle sue istituzioni sia la personalità giuridica civile e il libero esercizio della propria missione che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche a chi liberamente lo desideri nonché alcune forme di aiuto e collaborazione a degli enti destinati all'educazione e all'assistenza benefica e sociale che fanno un bene pubblico è da notare passo all'ultimo paragrafo che questo tipo di accordi allo stesso tempo che rispettano in ogni nazione l'autonomia e la indipendenza dello Stato e della Chiesa ciascuno nel suo proprio ambito non implica alcuna discriminazione nei confronti di altre religioni professate da un numero più ristretto di cittadini e che hanno avuto minore incidenza nella storia e nella cultura della nazione effettivamente anche a queste altre comunità religiose ciascuno di questi Stati riconosce o deve riconoscere se offrono le ciasse garanzie di rispetto all'ordine sociale e alla moralità pubblica il diritto alla libertà religiosa non sarebbe infatti giusto discriminare queste altre comunità privando i loro membri di un diritto fondamentale della persona però neppure sarebbe giusto poiché ciò significarebbe ignorare le esigenze della stessa realtà sociale e delle coscienze dei cittadini operare un indiscriminato livellamento giuridico di tutte le religioni ponendo in tutto la chiesa cattolica alla stessa altezza di qualsiasi altra religione comunità o setta lo stesso discorso va logicamente fatto riguardo a nazione la cui storia cultura e istituzioni hanno avuto l'influsso di altre diverse tradizioni religiose si pensi alla tradizione ortodossa di Grezia Russia o altri paesi ma si pensa specialmente alle nazioni di prevalente tradizione islamica Arabia Saudita Sudan Iran Pakistan Afghanistan e altre con le quali l'auspicato dialogo di civiltà richiede necessariamente oggi da parte musulmana purtroppo non è così il mutuo atteggiamento di rispetto e di uguaglianza nell'esercizio dei diritti fondamentali della persona umana incluso quello della libertà religiosa sia di culto che di coscienza nella stessa misura in cui la richiesta sempre più estesa e profonda di libertà religiosa si oppongono fondamentalismi o totalitarismi religiosi e politici di vario stampo sorge spontanea la domanda sulla necessità e sul fondamento del dialogo tra le civiltà soprattutto in questo particolare momento della storia infatti la tanto discursa globalizzazione insieme al progresso tecnico ha comportato una notevole mobilità umana anche per ragioni di lavoro e ha provocato un significativo aumento del flusso migratorio sia a livello interno che a livello internazionale la società globalizzata è sempre più multietnica multiculturale e multireligiosa con tutto il rischio di tensioni e di conflitti che possono scaturire dall'incomprensione o del mancato rispetto dei valori culturali della nazione che accoglie o in genere della dignità delle persone che non condividono la stessa cultura o fede religiosa personalmente vorrei finire tornando al punto di partenza penso che il dialogo tra le culture tra le varie civiltà operanti nel mondo è possibile se lo si imposta sulla base necessariamente comune del rispetto della dignità della persona umana e concretamente alla dimensione religiosa della sua libertà ha detto Giovanni Paolo II il dialogo tra le culture strumento privilegiato per costruire la civiltà dell'amore poggia sulla consapevolezza che vi sono valori comuni ad ogni cultura perché radicati nella natura della persona in tali valori l'umanità esprime i suoi tratti più veri e qualificati lasciandosi alle spalle riserve ideologiche ed egoisme di parte continuò il Papa occorre coltivare negli anime la consapevolezza di questi valori per alimentare quel humus culturale di natura universale che rende possibile lo sviluppo fecondo di un dialogo costruttivo e questo mi sembra sia anche l'impegno magisteriale di Benedetto XVI nell'invocare spesso il dialogo circolare tra fede e ragione la dimensione religiosa dell'uomo fa parte dell'esperienza umana in tutte le culture dalla reciproca apertura degli aderenti alle diverse religioni possono derivare grandi benefici per il dialogo tra le civiltà la pace e il bene comune dell'umanità ma questa apertura appoggia sulla consapevolezza che tra i valori comuni ad ogni cultura perché radicate nella dignità della persona umana della sua ragione e della sua libertà si trovano i diritti fondamentali dell'uomo incluso certamente il diritto alla libertà religiosa nel suo spirito delle leggi opera base dello stato di diritto il varone de Montesquieu scrisse la libertà non consiste nel fare ciò che si vuole bensì nel poter fare ciò che si deve volere alla luce di questa ultima relazione tra libertà e verità relazione tanto necessaria per il dialogo tra le civiltà acquistano un particolare significato l'esequente esortazione di Benedetto XVI parlando ai rappresentanti di religioni non cristiane è imperativo impegnarsi in un dialogo autentico e sincero costruito sul rispetto della dignità di ogni persona creata come noi cristiani fermamente crediamo e non solo noi a immagine e somiglianza di Dio la difesa della libertà religiosa la dimensione religiosa della libertà umana è un imperativo costante e il rispetto delle minoranze è un segno indiscutibile di vera civiltà grazie ho finito grazie 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 grazie